Sì? Disturbo? Ma che ti stai a fare? Che mi stai a fare? Niente! Qualche cosa la stai a fare? No! Ma che stai a fare? Ecco! Fammi vedere! Ma che è? Ah non vedi che pezzo di... Pezzo di che? Una bambina o? Ah tu questa ma la chiamiamo i bambini? Si e che? Facchetta la pia a questa devo farci vedere io che gli faccio. Va beh che vuoi? Senti, sono venuto a me chiedere due cose. Ah prima si mi presti dieci. No fammo quindici che è me? Ti pareva. Ho un stone bianco e devo accompagnare uno a casa stasera. C'hai 75 e mi arriva di debito con me. Quando mi dai? E tu segna che poi io te le pago. Si eh? E te le do te le do. Poi? La seconda è che con questa che c'ho dell'anno oggi ho superato me stesso. E chi è? Chi è? Questa è un'artologata, una filippina, fa la cameriera qui da quei signori. Senti come ho presa eh? Allora, marzo e te lo faccio vedere che è meglio. Che vedete? E mettete qua, non ti preoccupa. Beh? Allora ho preso un disco, un lento, ho messo, ho fatto musica, tutto a posto. Ho fatto balla, come dico balla lei subito? Noo sai non mi va di ballare. Balla! Poi ci siamo messi a ballare, sto partito subito con un incontro avvicinato del quarto tipo. E qual è? Qual è? E quello tu fai tutto così, un movimento del bacino, ventrale. Tipo Ula Hop? Ma che Ula Hop è meglio. Tutto così, tutto bello. Mentre io facevo così, no? Lei si è subito messa così. A filippina? Eh, fallo un po' a te. Ecco così, bravo. Mentre io facevo così e ballavamo, no? Quei dita gli solle di cavi e cosci. Adesso vede che brividi. E cavano tanto, facevo su e giù, su e giù, come un ascensore. Ma guarda tu che stai la vede! Vergognatevi, zozzi! Stavamo a fare una prova. Stavamo a scherzare. Ma non so mica tanto eh! Stavamo a scherzare!